Perché l'immagine che vi proponiamo arriva in diretta dalla nostra torre, dalla torre Rai di Corso Sempione, questo è lo skyline di Milano, i grattacieli di Porta Nuova, guardate che immagine meravigliosa, subito il tempo, il cielo appare sereno su Milano, vediamo se sarà così anche sul resto della regione, ci colleghiamo all'ARPA con Gian Paolo Minardi. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, se sul resto d'Italia il maltempo fa notizia da diversi giorni per neve e vento, sulla nostra regione il tempo invece continua a essere stabile e possiamo dire così molto tranquillo, a parte le temperature molto basse. Vediamo dalla grafica che il cielo è sereno su tutta la regione, solo qualche passaggio nuvoloso sulla bassa pianura e sull'Appennino, nessun fenomeno particolare da segnalare se non un po' di vento sui laghi, sulle montagne e come dicevo le temperature molto basse, in questo momento sulla pianura si va dai 2 ai 6 gradi sotto lo zero, ancora più basse sulle zone montane, sul fondo valle valteninese ad esempio siamo intorno ai 10 gradi sotto lo zero. Per ulteriori dettagli ci sentiamo comunque più tardi, a dopo.